Carenza idrica e interruzioni notturne del servizio nella parte bassa di Chieti allo scalo con i residenti pronti a scendere in piazza. L'ACA sostiene che al momento non ci sono criticità nella fornitura, cosa confermata ma solo in parte dal sindaco Diego Ferrara il quale tuttavia punta il dito su quello che è il vero problema, ovvero i lavori che tardano a partire e che dovrebbero risolvere tutto. Il primo cittadino poi spiega il tipo di intervento atteso dalla comunità. Luglio sarebbe dovuto essere l'ultima data buona di partenza perché in effetti secondo il cronoprogramma i lavori sarebbero dovuti partire addirittura a febbraio del famoso anello di 20 chilometri che a partenza davanti allo stadio in Viale Abruzzo fino a Madonna delle Piane e il ritorno avrebbero dovuto dare una più che discreta autonomia alla parte bassa della città. La durata stessa dei lavori è diventata una specie di favola perché all'inizio un mese, un mese e mezzo, poi due mesi, adesso sulla tabella c'è scritto tre mesi. La dottoressa Brandelli mi ha telefonato molto gentilmente in maniera personale una ventina di giorni fa dicendomi che i lavori sarebbero iniziati prestissimo se non addirittura il giorno dopo la sua telefonata. Purtroppo ciò non è avvenuto, non ne conosciamo i motivi per cui la delusione non solo dell'amministrazione ma anche e soprattutto dei cittadini a cui noi ci sentiamo vicini è assolutamente comprensibile e ad essa deve essere data sicuramente una risposta. A proposito dei residenti, come detto hanno annunciato una sorta di ultimatum all'ACA senza risposte chiare, lunedì prossimo è in programma una manifestazione davanti la sede dell'azienda acquedottistica solidale. Il sindaco che ricorda come tuttavia non sarà presente al presidio per evitare strumentalizzazioni. Presumo che stare lì davanti all'ACA accanto ai cittadini sia un dovere morale ma esserci fisicamente solo perché in altre circostanze si è fatta polemica strumentale lo eviterò. Però sappiano i cittadini che è come se io fossi tra di loro.